titolo originale je rendezvous avec vous nella mia traduzione in italiano e ho appuntamento con te questa è una delle primissime canzoni di Brassens non dico la prima ma tra le prime canzoni di Brassens è datata e risale al 1952 in cui emerge tutto lo spirito libertario l'animo controcorrente anticonformista di di George Brassens il protagonista della canzone spinto da passione amorosa si mette contro il mondo rinuncia a tutto rinuncia alla casa rinuncia al pranzo rinuncia a un contatto con un banchiere che potrebbe essere un impresario c'è qualcuno che può mettere a proprio agio mettendosi in una posizione scomoda addirittura nella e al di fuori di una vita normale addirittura partendo proprio dalla prima stroppa c'è questo approccio mitologico cosmico per cui addirittura se la prende con l'astro solare sua maestà lastro solare contro la luce del sole e questo la dice lunga sul sul brano ho appuntamento con te la luce che amore mi lascia il buio si ma che importa ho appuntamento con te la luce che amore ho appuntamento con te mi trovi che ho appuntamento con te ho appuntamento con te la casa che amo abitare è la tua gonna per me d'altro non voglio parlare ho appuntamento con te chi mi dà e fa da mangiare e scrocco anche il caffè mi togli il pasto sì ma che porta a me ho appuntamento con te il piatto che amo mangiare sono le tue labbra per me d'altro non voglio parlare ho appuntamento con te ho appuntamento con te chi mi può fare ingrassare poiché non sono la che non mi dà un soldo sì ma che porta a me ho appuntamento con te il lusso che amo sfoggiare è il tuo cuore per me d'altro non voglio parlare ho appuntamento con te ho appuntamento con te ho appuntamento con te